partiti il leggero ritardo happy catering in vantaggio si porta yes sir nei confronti di tassa patrimoniale al suo interno segue poi a largo madame gloria davanti a joanna sweet quindi veio d'ora a largo di tutti e per linee interne life dance quindi santa gemma happy catering siamo a metà gara con yes sir in leggero vantaggio avendo all'esterno madame gloria lungo la corda tassa patrimoniale più all'esterno avanza joanna sweet siamo a 250 dal palo con yes sir che sta allungando attaccata a fondo all'esterno da madame gloria madame gloria attacca yes sir e passa nel tratto finale madame gloria davanti a yes sir al terzo posto tassa patrimoniale poi joanna sweet con vicino santa gemma rivediamo ora le immagini se la regia ci ripropone questa prima corsa di aniano con il successo dal numero 4 madame gloria montato da mariolino esposito allenato da vincenzo caruso è in primo piano ora il vincitore di questa prima corsa di napoli